Ciao ragazzi, come state? E' da un po' che non faccio giveaway in effetti me ne siete accorti, credo ma dopo l'ultima volta che è successo quel problema dovuto al fatto dei cambiamenti di Youtube ho lasciato un po' stare anche perché, proprio come vi avevo già detto mi dispiaceva non riuscire a capire come fare anche perché Youtube stava facendo questi cambiamenti di regole su regole cambiava i profili un po' a casaccio, secondo me e poi non c'era la possibilità di commentare insomma, mi dispiaceva appunto non avevo un confronto con voi e questo mi ha dispiaciuto parecchio infatti ho fatto meno video insomma, ho cercato un po' di cambiare infatti anche adesso, come vedete la scrivania la sto anche un po' rivoluzionando ho tolto un po' di cosine infatti alcune cose le sto vendendo insomma, ci sta un po' di cambiamenti il cambiamento più grande che è stato per me è stato l'apertura del blog non so in quanti di voi lo conoscono ma spero che questo giveaway serva appunto anche a farvelo conoscere perché grazie al blog ho la possibilità di avere un riscontro con voi quindi di poter parlare, commentare insomma, quello che facevamo su youtube ma che adesso non si può più fare in determinati video e questo veramente mi dispiace qui davanti a me adesso, vabbè trovate una kitten catfè che ho appena recensito ma vi pubblicherò il video più avanti sono molto carine in parte c'è una na 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 surprise che adoro sto facendo la serie completa perché sono una più bella dell'altra cioè veramente le amo ma dettagli, ok a parte questo dicevamo allora, sì ci sarà questo giveaway e ci saranno due estrazioni una per vincere l'olodrove che è ancora rimasto dal vecchio giveaway e un altro ci sarà un mega pacco veramente grande dico sto lo che pesa tipo 3 kg e di tantissime cose appunto perché appunto sto stissimando tante cose mi piaceva regalarvele proprio perché magari io non le utilizzo quindi mi dispiace anche tenerle lì e perciò insomma ho deciso di fare proprio questo gigantesco pacco sia per festeggiare gli 8000 iscritti che vi avevo promesso di fare un giveaway che non abbiamo più fatto e anche per il blog quindi sono dei due traguardi che per me sono importanti anche perché ad esempio il blog sinceramente non avevo la più palida idea di come realizzarne uno e non avevo nessuno che conoscevo che sapesse farlo ed è comunque ancora diciamo almeno secondo me non è ancora completo ci vuole qualcosa in più però è abbastanza bozzato bene quindi sono abbastanza soddisfatta allora parliamo di cose serie no dai a parte di scherzi il blog è serio per me questo giveaway inizia oggi quindi domenica 1 marzo e finirà domenica 8 marzo quindi giusto una settimana e allora cosa dovete fare per partecipare mi raccomando seguite le regole ragazzi in modo tale che non succeda di nuovo come l'altra volta perché veramente è abbastanza triste allora dovete essere iscritti al mio canale quindi a questo canale qui con l'iscrizione pubblica che cos'è l'iscrizione pubblica per chi ancora non lo sapesse l'iscrizione pubblica è quando io posso visualizzare le vostre iscrizioni e quindi vedere che siete effettivamente iscritti al mio canale la scorsa volta c'è stato questo problema e anche sul fatto del mi piace infatti allora per il mi piace se volete lo mettete mi fate contenta però non lo metto come un obbligo quindi non andrò a verificare se effettivamente l'avete messo ma per quanto riguarda l'iscrizione quello si ci tengo perché questo punto è un video per gli iscritti al mio canale e quindi ci tengo assolutissimamente se avete dei dubbi su come mettere l'iscrizione pubblica vi lascio giù in descrizione il link per farlo o eventualmente chiedetemelo pure a me non c'è nessun problema sono disponibilissima poi essere iscritti ovviamente anche al blog visto che il blog ormai è diventato il braccio destro diciamo del canale vi lascio giù sempre il link e comunque poi adesso ve lo faccio vedere anche direttamente come si fa a iscrivere è veramente molto molto semplice poi commentare sotto questo video con il nome che avete nel blog allora quando vi iscrivete al blog vi chiederà insomma di inserire un username per non mettere insomma il vostro non mi ricordo molto bene ma poi lo andremo a scoprire e quindi per verificare entrambi mi serve appunto che scriviate un commento qua sotto il video con il nome che utilizzerete poi nel blog quindi vi consiglio prima di fare il blog e poi di scriverli qua sul canale e poi potete scrivere insomma quello che volete però mi serve che vi identifichiate con il nome che utilizzerete poi nel blog e stessa cosa poi nel blog quindi commenterete sotto all'articolo che scrivo che corrispenderà poi a questo video con il nome vostro dell'utente appunto di youtube quindi spero di essermi insomma spiegata bene eventualmente chiedetemi poi tranquillamente non c'è problema ovviamente dovete essere maggiorenni o comunque chiedere il permesso a un adulto perché questo è molto semplice perché io ho bisogno dei vostri dati sensibili quindi l'indirizzo e il numero di telefono da comunicare al corriere per inviarvi i pacchi perché sennò non posso farlo e quindi mi serve questa cosa qua poi come dicevo ci sarà questa doppia estrazione una per l'holodrove e una per per il pacco con tutti i regali che adesso vi farò vedere devo ancora decidere sinceramente come farlo nel senso allora vorrei fare un'estrazione sul blog e un'estrazione sul canale farò l'estrazione magari prima sul blog visto che è una novità quindi per ogni commento che voi scriverete sul blog io vi metterò un numero e così farò un'estrazione numerica sul blog e un'estrazione tramite messaggi sul canale quindi ci sarà questa doppia estrazione devo ancora decidere cosa vincerà uno e cosa vincerà l'altro magari farò scegliere al primo vincitore del blog che cosa preferisce tra le due cose e quello del canale youtube avrà l'altro articolo insomma l'altra cosa per il resto mi sembra di avervi detto tutto ovviamente sarà un giveaway per i residenti in Italia ok mi pare di avervi detto tutto quanto se avete dubbi perplessità insomma scrivetemi tranquillamente anche un'email ad esempio sul blog potete farlo direttamente c'è il form per scrivermi e niente ora vi faccio vedere tutti i regali insomma che riceverete il primo premio per questo giveaway sarà appunto l'Holo Drove Fashion Stars The Kit che include tre album per realizzare dei fantastici outfit per le nostre bamboline ma anche per i nostri maschietti perché questo è un gioco unisex quindi può andare bene sia da maschietto che da femminuccia e mi è stato appunto dato dalla Maei che ovviamente ringrazio questo purtroppo era rimasto l'unico diciamo dal vecchio giveaway che non sono riuscita a insomma a combinare visto quello che era successo insomma non sto a raccontarvi tutto quanto lo sapete quindi questo è il primo premio il secondo premio è un bel po' di cosette infatti allora stavo valutando l'idea di tirarlo su sulla scrivania ma c'è troppa roba e quindi non mi sta allora quindi questo ve lo metto in fondo e adesso vi tiro fuori un po' per volta tutto quello che voglio regalarvi ed è veramente tanto ok allora iniziamo con questa bottiglietta in plastica qui ha il tappo quindi è comodissima per l'estate poi questo set di timbri dell'alfabeto crealando che avevo acquistato a Lidl questo set di tre portafoto da appendere in legno poi questo cricetto portachiavi molto carino cerco di andare veloce ragazzi perché ci sono veramente tantissime cose poi il peluche del gatto super ciccione di Petz che stra adoro perché mi ricorda tantissimo la mia gatta dei calcini di Kill Bill volume 1 poi delle calamite dei cute but diddly quindi carini ma mortali un portachiavi unicornoso sempre a tema unicorno vi metto anche un pacchetto di fazzoletti tutti unicornosi li ho trovati me ne sono innamorata quindi ho deciso di metterne un pacchetto anche a voi poi questo peluche a forma di nuvoletta molto molto kawaii poi questa valigetta del soft melmito slime quindi qua potete creare il vostro melmito e io li adoro questi sono fantastici un piattino di yellow kitty con little twin star uno squishy a forma di cuore poi ho trovato questi qua che li ho anche per i miei gatti sono fantastici sono dei giochi per gatti ma sinceramente sono belli anche da ma non lo so dico antistress però insomma sono i personaggi di angry birds poi un cavallino filly guardate che carino che è un portamonete con il topolino in silicone poi potete utilizzarlo come portamonete o come volete di accessorize poi abbiamo questo cagnolino bello bello cuccioloso della trudi con la sua borsetta è veramente adorabile non poteva mancare il portachiavi emoji ovviamente poi poi questo poker poker pops di Klairs nuovo come vedete due squishy della marvel thor e hulk bello questo kit questo kit l'avevo scontato volevo farlo però alla fine mi sono resa conto che non riesco a farlo con la balena qui avete tutto l'occorrente per realizzare queste tre portachiavi a forma di balena poi un peluche di elefantino questo dovrebbe essere un emoji squishy poi magnetic putty quindi la pasta magnetica guardate si è già agglomerato ci sono dentro anche gli occhi è bellissimo questo ho detto di far veloce però mi sto perdendo via chiudiamo va che è meglio poi questi calzini super kawaii con questo coniglietto i magneti delle tartarughe ninja questa bustina della sario poi questo pink diciamo smartphone di ladybug poi poi abbiamo metto anche questo genuz troppo carino dovrebbe se c'è anche il cerchietto non sa che è cascato eccolo qua il cerchietto e la spazzolina questo con la sua spazzolina vabbè è già cascata mettiamo qua poi non abbiamo ancora finito allora questo porta chiavi di hello kitty questo porta chiavi di pucca l'avevo acquistato tantissimo tempo fa dovrebbe essere stato realizzato a mano comunque molto carino sia questo e vi ho messo anche l'altro così se avete magari una migliore amica potete averne uno a testa ecco qui l'altro poi abbiamo questo adorabile bimbetto molto furbetto un'altra bustina questa però di sumi kugurashi uno squishy ciambella forma di gatto bello slow rising e anche buon perfumato questa penna con un mac con un macbook se non sbaglio all'interno dovrebbe esserci lo specchio poi questa versione di non mi ricordo che pokemon qualcuno me l'aveva detto però non me lo ricordo più come si chiama poi una glimis questo porta chiavi super bellissimo super glitterato cioè che è stra adoro è bellissimo questo porta monete va inserita qua la monetina troppo carino anche lui poi abbiamo vediamo se riesco a farvelo vedere tre picnipops con anche la lecca lecca qua tutto dentro vi metto ho messo i sacchettini in modo tale che il profumo non non si disperda chiudiamo qui picnipops mettiamolo qua poi un anellino di aurora disney questo specchio con il gattino ecco che lo spacco subito così un po' di anni di fortuna poi la spazzola glitterastica super glitterata questa bustina per mettere i vostri regali per mettere quello che volete non ci sta più niente poi questo gufo realizzato con una lavetta in microfibra quindi se non vi piace poi potete distruggerlo e utilizzare la lavetta per pulire fare insomma quello che volete poi questi cuoricini da appendere per lati portachiavi con susate portamonete con i due gattini che ballano spilla molto molto carina un altro pucker pops e questo è quello versione bimbettolo ovviamente mai usati poi vi metto anche il set quello di pets 2 che avevo preso al al mac ma non ho mai usato e quindi mi dispiace tenerlo lì preferisco regalarvelo a voi composto da questo portanome il quadernino le etichette l'astuccio con dentro due matite più scusate due gomme e una matita questo poi abbiamo questo cagnolone super carissimo poi questo scratch note quindi ci saranno tutti i fogli neri e voi potete disegnare colorare quello che volete poi questo dovrebbe essere uno specchio mi pare sì uno specchietto molto unicornoso questa bustina poi abbiamo questo beige con il gatto un quadernino gattoso con questo fat orange cat poi questo molto carino aspetta che lo apro ok mi pare questa scatolina con come si chiama questa scimmietta non mi ricordo però è una scimmietta molto simpatica e guardate che si sta mangiando il biscottino c'è troppo carino c'è troppo carino adoro aiuto non mi sta più niente ragazzi ma non è finito allora delle mollettine poi questo guffetto dei magichi è uno dei miei preferiti questo momin che so che a qualcuno di voi piace infatti io non lo conoscevo sinceramente questi sticky notes di Gudetama poi questo di star track che è per mettere in macchina altro fumo di vaniglia poi questa blind box aiuto era dei poppings shop la profumeria non so se ve lo ricordate l'avevo recensito così a forma di valigetta questo e poi per finire un kit della tucan box per creare la tela kente e la collana tribale quindi sono due kit da realizzare e questo è quanto ragazzi è veramente tanto mamma mia ok eccoci qua sul blog che appunto luna marina official blog questo vabbè è un articolo che ho scritto riguardante le nonne surprise che sono stupende e è molto semplice scriversi basta seguire infatti vedete che io ho scritto qua proviamo a non seguire più ok ora andate su aspetta vi faccio lo zoom così vedete ho veramente pochi follower se notate potete però insomma non tutti lo conoscete ancora quindi schiaccio su segui viene fuori questa schermata seguire luna marina official blog pubblicamente come luna marina official quindi questo sarà il vostro nome quando vi iscrivete il tuo profilo sarà visibile nell'elenco di follower del blog riceverai gli aggiornamenti del post di questo blog nell'elenco di letture su blogger.com quindi praticamente quando io pubblicherò un nuovo articolo voi riceverete un'email che vi avvisa che l'ho fatto e quindi schiacciando su segui appunto comparirete qui quindi mi raccomando vedete se io schiaccio sopra ci si è proprio scritto luna marina official quindi sotto a questo video quando andrete poi a commentare che cominciamo semplicemente schiacciare su commenti e inserite il vostro commento quindi dovete inserire quello che volete ma ricordatevi di inserire il vostro nome utente di youtube in modo tale che io posso fare la verifica in entrambi quindi niente ragazzi in bocca al lupo spero di essermi appunto spiegata al meglio se avete qualche dubbio andando sotto 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 aspettate eccolo qui c'è questo form dove potete scrivere il vostro nome il messaggio e inviarlo in modo tale che io vi posso rispondere sia qui o se no se volete su contatti avete proprio la mia email quindi come volete se avete dei dubbi perplessità insomma cerco di essere a vostra disposizione il più possibile insomma ok niente ragazzi quindi per questo video è tutto spero che i premi vi piacciano e niente io vi saluto un grande bacione e ci vediamo per il prossimo video in bocca al lupo a tutti ciao ciao